Di questo showroom, in questo appuntamento natalizio, la mia sinistra Sandro Parigi, amico dei grandi eventi estivi e Massimo Vesprini, sono piloti amatoriali chiaramente di raduni di auto d'epoca oggi in sinergia con Sandro Parigi, con Tiziana Showroom per questo appuntamento Certo, quando Tiziana chiama, noi siamo tutti amici, quindi interveniamo subito anche con un piccolo esposizione di auto d'epoca fuori giusto per aggruppare le più importanti Marche, che noi abbiamo partecipato anche alla settima San Naro da Sottetto sempre nel corteo storico pre-apipissa di gara, quindi ci divertiamo in questa maniera in tutti gli anni a fare i grandi cortei di auto d'epoca storico E con Sandro c'è Massimo Vesprini, ovviamente oggi insieme a Sandro per questa ricorrenza importante natalizia che ci aiuterà a Marche